Si lavora duramente seppur sotto traccia. Il Palermo non molla la presa sul difensore Fabio Lucioni già nel mirino da diverse settimane nell'ottica del rafforzamento del settore arretrato. L'esperto difensore centrale è al momento l'obiettivo numero uno per il DS Rinaudo in vista dell'apertura ufficiale del mercato fissata per il primo luglio. Lucioni che ha centrato la promozione quest'anno con la maglia del Frosinone è tornato alla casa madre il Lecce e per il passaggio in Rosanero c'è da sciogliere il nodo dell'anno di contratto con il club pugliese. La trattativa ad ogni modo sarebbe stata avviata e sono buone le possibilità che arrivi in porto. Nel taccuino della dirigenza Rosanero rimane anche Dimitri Bisoli che come Lucioni è già stato in passato allenato da Eugenio Corini. Anche il giocatore del Brescia è uomo di grande esperienza e dopo la retrocessione delle rondinelle è un profilo che il tecnico valuterebbe con attenzione. Rimane viva anche la pista che potrebbe portare a Bisoli. Altro nome targato Brescia è quello dell'under Cistana ma si fanno ancora ipotesi di elementi più esperti quali ceppitelli e ceccaroni. Per ciò che riguarda l'attacco sono diverse le voci dell'ultimo ora su una punta che possa affiancare il bomber Brunori. Fra gli elementi di cui si parla c'è anche Massimo Coda di certo fra i cannonieri top della categoria. La voce al momento non ha trovato riscontri con l'attaccante che vorrebbe giocarsi le sue chance nel Genoa dopo la promozione in Serie A.